terapia una delle componenti importanti la componente a mio avviso più importante indubbiamente è quella di incontrare l'altro quella di riuscire davvero ad entrare in una relazione la terapia è prima di tutto relazione vedi a me capita di lavorare in quest'ambito quotidianamente vedendo tante 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 persone e ciascuno porta questioni diverse ciascuno porta bisogni diversi a volte semplicemente fra virgolette la rielaborazione di un evento accaduto a volte è una una tendenza di pensiero sono tanti temi che possono essere portati in psicoterapia spesso essi hanno radici profonde radici profonde che coinvolgono quelle che sono le esperienze che abbiamo avuto fin da bambini nel nostro sistema di appartenenza nella nostra famiglia di origine relazioni relazioni che possono aver avuto esiti positivi arrecandoci fiducia sostegno forza oppure a volte risvolti negativi come libera protezione come la trascuratezza l'abbandono ecco in psicoterapia ciò che maggiormente cura ciò che maggiormente aiuta ciò che maggiormente trasforma è la relazione cioè una relazione che permetta di rivivere a volte anche aspetti delle relazioni già vissute andandoli però a modificare all'interno di una dinamica relazionale sana o quantomeno sempre più tendente ad essa con l'intento che essa si possa manifestare sempre più che aiuti l'altro a fare delle esperienze un'esperienza di accoglienza un'esperienza di di non giudizio un'esperienza di ascolto anche questo sai non è da sottovalutare la percezione di essere ascoltati dall'altro un'esperienza di vicinanza di intimità pur all'interno di un setting strutturato indubbiamente che quello terapeutico con delle regole più o meno esplicite a volte implicite anche però questa esperienza di relazione una relazione dove l'altro ti aiuta a vedere a riconoscere come esploratori che insieme camminano nel percorso della vita quelle che sono strutture che in qualche modo ci portiamo dietro da sempre ma che da soli facciamo fatica a vedere perché percepite da dentro percepite da dal nostro unico punto di vista perché ormai parti integranti della nostra identità della visione di noi stessi parti costituenti di essa e quindi difficili da identificare da vedere allora ecco la relazione in terapia in psicoterapia aiuta a fare questo aiuta a vedere questi aspetti aiuta a riconoscerli e come ti dicevo aiuta nel tempo a fare un'esperienza di vicinanza di intimità non tutti sono pronti a fare questo non tutti riescono spesso le terapie finiscono finiscono magari anche dopo poco tempo perché magari la persona si rende conto che andare avanti vorrebbe dire andare più in profondità e non sempre siamo pronti a farlo perché vedi quelle esperienze che possiamo aver vissuto da bambini alle volte sono spesso per chi va in terapia spesso sono esperienze legate anche alla sofferenza al dolore alla lontananza all'abbandono e allora legata ad emozioni che non non vogliamo più di tanto incontrare magari razionalmente sì perché vogliamo guarire da tutta una serie di sintomi da tutta una serie di tendenze di coazione a ripetere nella nostra vita continua sentirmi sempre solo però a livello emotivo a livello più profondo inconsapevolmente quindi sotto ad un livello di coscienza magari facciamo molta fatica non ce la sentiamo di aprirci di andare in profondità e qui vengono aiuti in aiuto tanti altri strumenti che normalmente vengono usati in in almeno nel mio modello di psicoterapia che a mio avviso possono davvero trasformare però ecco quello che volevo condividere con te oggi è questo la relazione è un elemento molto importante della nostra vita la relazione trasformazione la relazione ci modifica quella terapeutica è di certo una delle relazioni per esperienza che almeno posso avere più importanti perché davvero è molto trasformativa ma tutte le relazioni della nostra vita in realtà ci trasformano ci modificano e una delle attenzioni che dobbiamo avere importante è proprio quella di di stare nelle nostre relazioni e di comprendere quanto esse davvero ci aiutino a fare quelle esperienze che ti dicevo di di accoglienza di amore di vicinanza di tenerezza di intimità di di stima di presenza di ascolto e semmai invece mi dovessi trovare a vivere relazioni che non hanno queste caratteristiche o che peggio hanno caratteristiche negative quindi di lontananza di freddezza o volte addirittura di violenza ecco allora in quel caso li devo proprio imparare a volermi bene devo proprio imparare a selezionare bene le relazioni della mia vita e scegliere di stare con persone con cui davvero valga la pena condividere la vita condividere l'esistenza più riuscirò a sviluppare questa attenzione alle relazioni consapevole del grande peso che esse possono avere nella mia vita e più riuscirò a vivere una vita ricca soddisfacente piena di davvero anche delle sensazioni belle grazie 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 grazie